Nona giornata di campionato, continuano le emozioni nel giornale C di Lega Pro, che regala sempre sussulti incredibili. Il Benevento fa del vigorito la sua arma in più, la capolista ha ottenuto 15 punti su 5 gare. 100% di vittorie a Casalinghe per la squadra di Tana Uteri, che è anche il migliore attacco del campionato, con 21 rete all'attivo. Giù il cappello per le streghe. 4 assisti in una partita, no, non è Messi, anche perché l'asso argentino ha il record con 5 passaggi vincenti in 90 minuti. Ma è Michele d'ausilio, con quelli offerti contro la Casertana spaventato e non poco, il campione del mondo in carica, il numero 7. Irpino è una scheggia, seconda doppietta consecutiva per Sunas, dopo quella dell'uscita arriva anche tra le mura amiche, un bis tanto cercato, tanto meritato in questo momento della stagione. E seconda doppietta è invece interna di fila per Chico Patierno, dopo quella al Foggia. L'unica vittoria esterna di giornata è della Turris sul campo della Cavese, grazie alla doppietta del sempreverde Giannone. E' prima vittoria in questo campionato invece per la compagine del Taranto, che piega in estremis il quotato piceno di Tomei, grazie al gol di Battimelli. Per la prima volta il Taranto inoltre non è ultimo in classifica da solo. A faglie compagnia adesso la Juventus Next Gen di Pablo Montero.